Cari amministratori, siete tanti qui, cari cittadini, oggi prendiamo iniziativa in 14 regioni italiane sul tema degli enti locali del patto di stabilità e anch'io mi sono sentito dire, come ricordava Zoggia, che non si capisce perché parliamo di enti locali mentre c'è la crisi. Io credo che a chi dice così bisogna dargli incazzotto, bisogna star mica lì a ragionare, perché credo che nessuno come un sindaco sappia bene e precisamente che cos'è questa benedetta crisi. Ce l'ha davanti alla porta di casa tutti i giorni e davanti al municipio tutti i giorni. Io dico l'opposto, dico che gli enti locali davanti alla crisi non sono la malattia, possono essere la medicina e dico anche che nel pieno di questa crisi noi partito democratico dobbiamo riprendere saldamente un rapporto con i nostri amministratori, noi siamo il partito delle autonomie. Io vi ho promesso qualche mese fa che il famoso radicamento di questo partito sarebbe cominciato anche da lì, da una ripresa del nostro orgoglio autonomistico e ci siamo messi a lavorare, ci stiamo organizzando e quella di oggi, lo ricordava Zoggia, è la prima tappa di un lavoro che vogliamo fare. Abbiamo 10.000 amministratori in Italia del partito democratico. La media di età di questi amministratori è fra i 30 e i 40 anni. C'è lì il pezzo più rilevante della classe dirigente di domani. È lì la classe dirigente di domani. Lì metteremo in rete, ci faremo mandare le migliori esperienze, cercheremo di riprendere un'iniziativa e dirò qualcosa sotto il profilo politico e culturale perché fare amministrazione bene vuol dire fare buona politica. È quella lì la politica nella sua concretezza, nel rapporto reale con i cittadini. Questa crisi è vero che ha la coda lunga. Se ne può parlare anche partendo dai rami alti o altissimi del sistema mondiale e europeo. E voglio partire da lì per arrivare subito a noi. Voi avete visto nelle ultime settimane settimane sotto la bufera della crisi finanziaria che improvvisamente è tornato in campo il tema dell'Europa. Ci sono dei neoconvertiti. A me dicono ma Tremonti è diventato europeista, dice questo mette in imbarazzo il PD, ma metterà in imbarazzo lui che ha sempre descritto l'Europa come il posto dove si misuravano le zucchine. Lui e loro che quando entrammo nell'Euro uscivano dal Parlamento e ci bastonavano tutti i giorni. Ce lo ricordiamo? Sì. Adesso tutti a correre a cercare di rafforzarlo perché tutti sanno che se non ci fosse l'Euro avremmo della carta stracci in mano e saremmo in mezzo al Mediterraneo. Tutti corrono nell'emergenza. Avete visto prime misure. I capi di governo. E quindi torna in campo la questione che cosa fare di questa Europa. Benissimo. Dobbiamo dire la nostra. Perché noi con tutti i nostri difetti ricordiamocelo che siamo uno dei più grandi partiti progressisti europei. E' ora che diciamo la nostra. E lo diremo già sabato. Non parleremo di statuti del PD sabato. Sia chiaro. Allora attenzione che qui c'è un crinale. Un crinale storico che ci arriverà alla porta di casa e dobbiamo occuparci. Ci può essere e c'è una parte dell'opinione pubblica europea che è una parte dei soggetti politici europei, per fortuna limitati, che pensano che questa crisi possa riconsegnarci un ripiegamento verso dimensioni nazionali addirittura con la caduta dell'Euro. Non nascondiamoci questo rischio. Ma più probabilmente se ne affaccio un altro di rischio. Cioè l'idea di fare un'Europa più stretta ma intergovernativa, i governi che si parlano, un'Europa mercantile, cioè tutto orientata alle esportazioni, e un'Europa che va a limare l'equilibrio finanziario attorno a un indebolimento del modello sociale. Se leggiamo i giornali anche di oggi in Italia, comincia ad arrivare questa tesi, che è una tesi su cui si discuti in Europa e anche nel resto del mondo, perché tutti adesso parlano di Europa. E la domanda è ma l'Europa per stare nel mondo potrà mantenere pur rinnovandolo il suo modello sociale o dovrà andare a ridiscuterlo. Attenzione, qui c'è il punto. Noi dobbiamo proporre un'idea alternativa a questo modello. Non un modello intergovernativo, mercantile e di istruzione del modello sociale, ma un modello federale di un'Europa più integrata e che trovi nell'equità e nella crescita le condizioni anche per l'equilibrio finanziario. Sono due modelli diversi e alcuni elementi di questa discussione ci arrivano in casa e ci arriveranno in casa anche nel confronto e nello scontro che ci sarà sulla prossima manovra ventura. Cosa abbiamo visto in questi anni qua che ci hanno raccontato che c'era l'equilibrio dei conti e che abbiamo visto applausi al Ministro del Tesoro per l'equilibrio dei conti? Adesso vi faccio il pronostico. Da qui due o tre giorni si comincerà a dire ma facciamo una manovra europea, facciamo quello che fanno gli altri. Ma come? Ma noi non eravamo messi meglio? Ma come viene a dire manovra europea? Ma perché noi? Cosa c'è arrivato dalla Grecia? C'è mica arrivato niente noi dalla Grecia? Anzi l'unica voce, qui ci sono amministratori, in cui lo Stato italiano è in condizione di risparmiare e di avere un tesoretto è sui tassi di interesse che sono stati sopravvalutati come fanno tutti gli assessori al bilancio per domare la bestia. Cosa fanno? Qui ce ne sarà qualche assessore al bilancio. Sopravvalutano un po' le spese per i mutili, sopravvalutano un po' le spese per gli interessi, dopo in corso d'anno, se gli interessi vanno meglio, c'è un po' di soldi per risolvere qualche problema. Così ha fatto lo Stato italiano. Noi non abbiamo avuto adesso un rialzo dei tassi. Quindi noi la manovra la facciamo non per la Grecia, è perché l'equilibrio che ci hanno raccontato in questi due anni era una balla. Per questo facciamo la manovra. E perché in questi due anni qua noi non abbiamo tenuto a bada, lo ricordava Errani, la spesa corrente.